Il pieno di miglioramento ambientale consiste in un progetto di carattere tecnico, molto tecnico, che si rivolge a tutti coloro che hanno un interesse particolare nell'ambiente del territorio della provincia di Bergamo e contiene all'interno tutti quei suggerimenti o se vogliamo anche quelle incombenze che dovrebbero essere seguite per fare in modo che si realizzino quei miglioramenti ambientali sul territorio a un miglior stanziamento della fauna selvatica e a un maggior ripopolamento di questi esemplari che sono poi la ricchezza del nostro territorio. Quindi è un piano importante, completo, provinciale, quindi ha caratteristiche di piano innovativo ma anche sostanzialmente molto tecnico, che è rivolto non solo all'ente provincia ma anche a tutti gli enti locali, comuni, comunità montane, tutti i portatori di interessi in senso positivo, quindi anche alle associazioni faunistiche, alle associazioni ambientaliste e tutti coloro che fanno volontariato sul territorio. Il piano è già stato approvato anche, quello che oggi noi presentiamo in realtà è la parte tecnologica cioè la realizzazione del DVD che sarà distribuito e che sarà a disposizione di tutti gli enti locali ma come le dicevo anche di tutti coloro che hanno un interesse particolare a migliorare l'ambiente in cui viviamo noi, vivranno i nostri figli, i nostri nipoti. Il portale dello sport sì, è una novità realizzata dal settore, pensata dal settore quindi da me, dal dirigente, dai funzionari, da tutti i dipendenti è innovativo perché è un primo portale interattivo che in tempo reale darà possibilità a tutte le società e le associazioni sportive di farsi propaganda. Che cosa vuol dire? Vuol dire inserire nel sito della provincia di Bergamo tutti gli avvenimenti che accadranno di carattere sportivo ma anche tutto ciò che è già accaduto quindi le eventuali premiazioni, le eventuali vincite di campionati o di tornei che sono stati effettuati dalla società e mettere a disposizione questo patrimonio di conoscenza per tutta la provincia e per tutti i cittadini di Bergamo. È già online, non devo dirlo, ma sarà ufficialmente online dai primi di febbraio adesso è in via sperimentale e con alcune società sportive stiamo tentando di approcciarsi per fare in modo che riescono a collegarsi, a inserire i dati e poi fare in modo che si colleghino gli altri per verificare questi dati. Però è già online, è già utilizzabile.